Non possiamo dire che un film in bianco e nero con le musichette e una veduta fissa sia di qualità inferiore possa coinvolgere in modo inferiore il pubblico rispetto a un grande colossal a colori con tutti gli effetti speciali. Non possiamo dire questo. Non possiamo dire che quel prodotto sia superato perché la storia del racconto è andata avanti. Non lo possiamo dire. Così come non possiamo dire che in un romanzo oggi le descrizioni degli ambienti sono superate perché tanti scrittori le ignorano e mirano solo all'azione. No. Tutto convive. Nella narrazione, nell'arte tutto convive. Nella creatività tutto convive. Ogni mezzo è possibile. Con me tu discuterai di questo. Io non ti proporrò un mezzo. Lo sceglieremo insieme. Io ti proporrò tante cose. Magari alcune di queste possono essere intersecate. Potremmo anche utilizzare diversi strumenti di comunicazione contemporaneamente. Potremmo realizzare delle storie minimaliste. Come al tempo dei fratelli Lumière. Ma questo lo vedremo insieme. Senza pregiudizi. Sapendo che la storia della narrazione non è una storia naturale di progresso dove una conquista supera le conquiste precedenti. Tutto convive sullo stesso piano. Su questo piano noi ci siederemo, parleremo, analizzeremo, discuteremo e troveremo le soluzioni migliori e adeguate per raccontare.